da come potete vedere in questo momento siamo a milano milano questa è la situazione alle ore vabbè una certa ora del pomeriggio 18 e un quarto 18 e un quarto sta piovendo da un'oretta sta piovendo attenzione in chi ragazzi guardiamo vedete le gomme delle macchine il mondo proprio sta piovendo un vento che non finisce più saluta ciao protestiamo attenzione il problema per la macchina per la macchina perché bella ora tiro un po su perché si sta bagnando la macchina che mi si gonfiano le portiere poi non esco più però attenzione guardate tra poco dovremo vedere spuntare un delfino siamo fortunati io non ci credo va 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 il titanic attenzione guardate mamma mia non ci credo non ci posso credere vabbè così un commento a caldo a caldo a freddo casomai ha bagnato ha bagnato un commento umido ma ti dirò ho una caga tremenda si eh dovrebbe essere stata la fascioada no perché non ho la patente lautica vabbè ma non ti preoccupare adesso prendo lo skin cos'è questo rumore qua attenzione la macchina potrebbe esplodere da un momento all'altro la macchina parla questa è una macchina che parla sta dicendo che siamo due completi imbecini no no non ci credo e l'ho anche alzata eh fai vedere questo qua il pulsantino questo qua lo vedete no vedi che c'è la freccettina cioè quando schiacci questo pulsantino qua la macchina si alza così fa così si alza quindi siamo anche cioè e all'occorrenza addirittura diventa un aliscafo però adesso non ve lo facciamo vedere perché c'è un po' di traffico no perché non so qual è il pulsantino esatto 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 comunque volevo lasciare un messaggio mamma papà vi è voluto bene sappiatelo che se non torno sono finito nei sommozzatori no comunque è bello cioè di solito qua c'è la strada eh di solito qua c'è la strada non vedo la segnaletica non ha messo la segnaletica galleggiante ma te lo devi attenzione vediamo panoramica no no non te lo faccio panoramica guarda qua passa 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 Grazie.